Ciao a tutti ragazzi, questo è un video particolare perché solitamente io non li faccio in questo modo più però volevo parlare con voi per sapere quali video potrei mettere sul mio canale se magari avete qualche idea, che ne so, qualcosa che vi piace vedere in particolare magari me lo scrivete qui sotto nei commenti di questo video così io provvederò a fare il video poi mi hanno chiesto anche in molti il video sulla mia Audi S3, dei costi di gestione eccetera quello vedrò di farlo a breve, adesso appena si sistema tutta questa situazione che c'è in giro come sapete che è poco bella, appena si riprende il tutto vedremo di fare un bel video su questi costi di gestione della mia macchina allora ragazzi volevo ricordare che un'altra cosa che farò sarà comprare dei microfoni adatti per riprese dal cellulare e riprese mentre uno tiene il cellulare in mano e io parlo che sono a distanza il mio microfono da tenere qui è uno attaccato al cellulare così in modo che mi sentite meglio si sente meno rumore del vento eccetera puoi comprare diverse cose tipo GoPro che servono per fare i video con più qualità diciamo questo è quello che vorrei migliorare io sul mio canale perché i video vengono fatti molto molto meglio intanto vi voglio ringraziare perché siete sempre presenti nei miei video iscrivetevi e rimanete connessi per vedere sempre video nuovi e mi raccomando attivate la campanella ragazzi e seguitemi anche su Instagram che poi li pubblicherò appena uscirà un video eccetera il mio nome su Instagram è nicola.andreini ciao ragazzi al prossimo video